Hai comprato casa e hai un mutuo? Paghi l'affitto? Hai la sensazione che i tuoi soldi, quelli che paghi per l'affitto o per un mutuo, vadano su Alfa Centauri o si perdano in un buco nero ai confini dell'universo? Allora questo video fa per te, per farti pagare il tuo mutuo o il tuo affitto con i dividendi. Nel video di oggi vediamo uno dei miei portafogli, che come sempre creo solo per voi e anche per me se avessi tutti quei soldi, per riuscire a pagare l'affitto tutti i mesi solo con i dividendi. E per qualcuna delle aziende di oggi siamo addirittura a solo dieci anni di investimento, cioè solo dieci anni, non è un tempo lungo, no? È più o meno quello che ci mette Pasquale per capire una battuta. E come sempre lo facciamo in questo caso non con dieci ma con cinque aziende, facciamo l'analisi delle aziende dal punto di vista, diciamo, degli inghingeri se queste aziende sono produttive o meno e come sempre backtest e forecast anche di queste cinque aziende insieme per fare un portafoglio unico. Vediamo nel video di oggi come menzionavo prima tutti i parametri finanziari delle aziende, ovviamente come sempre lo facciamo in maniera generica, poi se poi volete andare a approfondire fatelo pure e andiamo a vedere anche come una di queste aziende vi faccia arrivare a questo fantomatico risultato di arrivare a pagare l'affitto o il mutuo con i dividendi in meno di dieci anni o quasi, in realtà è poco più di dieci, sono undici, però diciamo che lo pagherete quasi tutto anche in dieci anni. Lo faremo sempre con un portafoglio da dieci mila euro, ma in questo caso non sono più dieci aziende ma sono solo cinque e poi appunto per ognuna di queste faremo un'analisi investendo in ogni singola azienda, ma ovviamente questo è molto rischioso e lo faremo poi in tutte le cinque aziende come se fosse un portafoglio satelliti da dividendi, anche perché con cinque andremo a mitigare molto di più il rischio anche se andremo a allugare il tempo necessario per raggiungere questo obiettivo di pagare il nostro affitto con i dividendi. Ma ad oggi qual è l'affitto medio italiano? Come guardiamo da questa grafica di circa 700 euro al mese di affitto, più o meno in Italia si pagano 108 euro al metro quadro annui di affitto. Ovviamente non prendiamo in considerazione città metropoli come Milano, Bari, Catania, Palermo, Firenze, Torino, non avrebbe senso, perché non avrebbe senso neanche fare questo esempio in un paesino collinare fra Parma e Reggio Emilia come il mio, dove l'affitto magari è la metà di quello che si paga in media in Italia. Sarebbe poco onesto e anche fuorviante nella gestione dei calcoli, per cui facciamo utilizzando questo affitto medio italiano di 700 euro al mese, per cui quello che vogliamo andare a raccimolare nei nostri investimenti per pagare l'affitto sono circa 8400 euro l'anno, 700 euro al mese. A mio parere una media che va più che bene. Andiamo al PC. Prima di continuare vi ricordo che la maggior parte delle schermate che vedete sullo schermo con i dati finanziari sono presi da Seeking Alpha, che purtroppo non sponsorizza questo video, magari potesse avere qualche miliardo di euro da parte di Seeking Alpha, da parte loro, ma dalla quale sono riuscito a ottenere dei link affiliati con degli sconti che arrivano fino al 20%, sia per la sottoscrizione appunto a Seeking Alpha e i suoi servizi, ma anche alle loro Alphapix, quelle dove vengono selezionate le aziende che secondo i selezionatori di Seeking Alpha hanno una maggiore probabilità di fare degli enormi capital gain. Link in descrizione, ma continuiamo. La prima azienda è Rexford Industrial, ovvero con il simbolo ticker REXR, un rito industriale che si concentra sul possesso e sulla gestione di proprietà industriali in tutto il sud della California, per cui limiti di estrema concentrazione, ma, dal mio punto di vista, enormi possibilità di crescita nel lungo periodo. L'azienda è specializzata in mercati ad alta domanda, con offerta limitata ed elevate barriere all'ingresso, con portafoglio delle aziende che è costituito da proprietà industriali statisticamente posizionate, inclusi magazzini e centri di distribuzioni che sono essenziali per l'e-commerce e la logistica. Questa attenzione alle posizioni privilegiate ha consentito a Rexford di mantenere i tassi di occupazione elevati e redditi dell'allocazione stabili anche in condizioni di mercato fluttuanti. Per prima cosa andiamo a dare un'occhiata ai numeri di Rexford Industrial, che vanta un rendimento dal dividendo attuale alla data di registrazione di questo video del 3,4%, che è piuttosto interessante, anche per un audit. Ciò significa che, per ogni 100 euro investiti, ci dovremmo aspettare 3,34 euro l'anno di dividendi lordi, all'ordo delle due tassazioni, per cui il 37%, essendo negli Stati Uniti. Ma il vero fascino risiede nel suo costante tasso di crescita di dividendi, che si attesta ad un impressionante 18,4% di crescita media annua. Questo elevato tasso di crescita indica che Rexford ha aumentato significativamente la distribuzione dei dividendi anno dopo anno, rendendola una scelta promettente per coloro che, come noi, cercano flussi di reddito in crescita. Un altro aspetto molto interessante è l'apprezzamento del capitale medio, per cui l'aumento delle proporzioni, che è di circa il 26% anno negli ultimi 10 anni, per cui circa un 260% di rendimento negli ultimi 10 anni. Questo significa non solo una solida performance di mercato, ma suggerisce anche un potenziale di plusvalenze oltre al reddito dei dividendi. Ma se investissi quindi questi 10.000 euro in questa azienda, Rexford, per avere i 700 famosi euro al mese, quanto ci metterei? Come vediamo dalla grafica, circa 17 anni e mezzo. Al diciostesimo anno potremmo pagarci anche alcune bollette. E se vedete, questi sono già dati al netto della doppia tassazione. Adesso guardiamo i dati finanziari. Per cui passiamo subito a quello che sono i dati finanziari di Rexford. E come possiamo vedere, il fatturato dal 2014 a 2023-2024 è 11 volte tanto. È un'azienda che è cresciuta tantissimo dal punto di vista del fatturato, anche perché si partiva da una base piuttosto piccola, rispetto alle altre aziende che vedremo nella giornata di oggi. E anche per quanto riguarda l'Operation Income, questo ha avuto un botto assolutamente quasi di 40 volte superiore rispetto a quello che era nel 2014. Per cui l'Operation Income e il fatturato sono cresciuti, come possiamo vedere anche dai grafici che vediamo sulla sinistra, in maniera quasi esponenziale. Se andiamo a vedere gli asset, anche questi sono cresciuti tantissimo, più o meno per quello che vedo a occhio, 11 volte tanto. Anche qui crescita esponenzialissima per questo real estate, che ci dimostra che i REIT a volte non sono così brutti come molti ce li vorrebbero far percepire. Se andiamo a vedere quella che è la parte debitoria appunto di questo REIT, possiamo vedere che gli asset sono molto, ma molto superiori rispetto a quelli che sono le reliability, che pure sono aumentate più o meno di otto volte rispetto a quelli che erano nel 2014, ma stiamo parlando di un aumento che non sfiora neanche minimamente quello che è la quantità di asset che l'azienda ha in portafoglio. E chiudiamo con la parte più importante, quella del cash, che rispetto al 2014, gli ultimi 10 anni, è aumentato più o meno di otto, nove volte, anche in questo caso, per cui c'è tanta cassa da poter utilizzare per i nostri beniamati, lodati dividendi che noi tanto amiamo. Passiamo alla seconda azienda, questa molto più conosciuta, secondo me American Tower Corporation, anche questo un REIT, leader nel settore Telecom Tower REIT, con il simbolo Ticker AMT, con credenziali da dividendo altrettanto forti. La società possiede e gestisce e sviluppa beni immobili di comunicazione multi-tenant, comprese torri wireless e di trasmissione, con una presenza in più paesi e un portafoglio diversificato di proprietà. American Tower svolge un oro molto cruciale, secondo me, nell'infrastruttura globale delle telecomunicazioni, facilitando l'espansione delle reti mobili e a banda larga. Ha un solido modello di business ed è supportato da accordi di locazione a lunghissimo termine con le principali società di telecomunicazioni, che appunto vanno a fornire un flusso di reddito stabile e prevedibile, in cui questa stabilità si riflette anche nell'attuale rendimento dei dividendi, che è pari al 3% al momento della registrazione di questo video come sempre, che è piuttosto allettante anche per un rendimento focalizzato sulla crescita. Inoltre, l'azienda ha un impressionante tasso di crescita dei dividendi del 13,7% anno, che indica che ha costantemente aumentato i dividendi distribuiti nel corso degli anni, con un apprezzamento medio del capitale, oltre al dividendo, che è pari al 125% in 10 anni, per cui un CAGR del circa 12,5% anno. Quindi, parlando di numeri, i 10.000 euro investiti solo in American Tower, dopo quanto tempo sarebbero accopili i 700 euro di affitto al mese? Come vediamo dalla grafica, ci vorrebbero circa 23 anni giusti giusti a questo ritmo, anche in questo caso già al netto della doppia tassazione. Adesso andiamo a guardare sui dati finanziari. American Tower Corporation, per quanto riguarda in questo caso i dati finanziari, ci dimostrano che l'azienda negli ultimi 10 anni ha triplicato il proprio fatturato, come possiamo vedere dal 2014 rispetto al 2023, è quasi triplicato, e per quanto riguarda l'Operation Income, questo diciamo che è più o meno due volte e mezzo quello che era nel 2014, negli ultimi 10 anni, comunque trend crescente e questo ci interessa moltissimo. Passiamo a quello che è la parte del balance sheet, e soprattutto per quanto riguarda gli asset, che si sono triplicati dal 2014 ad oggi, dal 2023, sono praticamente il triplo, per cui azienda che aumenta la quantità di asset posseduti, che possono essere messi al reddito, e per cui possono creare ulteriori cash da poterci restituire da dividendo, ma prima di guardare il cash andiamo a guardare quello che sono le liabilities di American Tower, che possiamo vedere in questo caso sono quasi triplicate, dal 2014 al 2023, quindi anche in questo caso abbiamo avuto un aumento di quello che è la parte debitoria, che comunque è più bassa, particolarmente più bassa, rispetto a quelle che sono gli asset totali, che abbiamo visto nella schermata precedente. E se andiamo a vedere la parte di cash, possiamo vedere che il cash comunque ha un trend di aumento negli ultimi 10 anni, però non è costante, diciamo che ha delle battute dal resto, ma ovviamente possiamo vedere che è sempre positivo e in linea di massima ha una forchetta abbastanza ampia di manovrabilità rispetto a quello che sono le paure che un investitore potrebbe avere alle aziende quando distribuiscono dividendo. Passiamo alla terza azienda, abbiamo una società che si occupa di mutui nel settore agricolo con il ticker AGM e abbiamo un'azienda che si chiama Federal Agricultural Mortgage Corporation, che è un'azienda che è un vitale attore nel settore finanziario agricolo che fornisce un mercato secondario per i prestiti agricoli. Questa è una posizione secondo me unica all'interno del panorama appunto degli investimenti americano perché fornisce un mercato secondario per tutti i prestiti agricoli, fornendo soluzioni di finanziamento e flessibili, soprattutto affidabili agli allevatori agricoli e ai servizi pubblici rurali ed essenzialmente quello che fa è garantire che ci sia molta liquidità nel mercato dei prestiti agricoli che è fondamentale per la stabilità e la crescita del settore agricolo statunitense. La posizione unica dell'azienda garantisce un flusso di reddito affidabile e in crescita rendendola una preziosa aggiunta a qualsiasi portafoglio incentrato. Questo ruolo viene supportato da, ovviamente, se non sarebbe in questo portafoglio, da solide performance finanziarie che è un'attrattiva per chi investe in dividendi. Infatti la società offre un rendimento attuale da dividendo un po' più basso di quelle precedenti, un 2,6% e per cui sebbene non è più alto è completato da uno dei tassi di crescita di dividendi più alto del quinquetto di oggi, che è un 14,3%, oltre a una performance, diciamo, di rendimento, di crescita del capitale che surclassa tutte le aziende oggi presenti in portafoglio con un rendimento del 65% anno, per cui un CAGR del 65% anno, che si, appunto, va a rispecchiare ad essere un 650% negli ultimi 10 anni. Da paura. Parlando di numeri, questi famosi 10.000 euro investiti in Federal Agricultural Mortgage, dopo quanto tempo sarebbero a coprire i 700 euro al mese di affitto? Come vediamo in questa grafica, avendo un rendimento del dividendo più basso iniziale, ci vorrebbero circa 25 anni e mezzo, mentre al 26esimo anno ci pagheremmo anche qualche bolletta e io ci aggiungerei pure una birretta e una fettina di pizza al taglio. Come sempre, al netto della doppia tassazione. Guardiamo adesso i dati finanziari. Vediamo come per Agricultural Mortgage il fatturato è comunque crescente, nell'arco di 10 anni si è triplicato, anche qualcosina in più. È un trend che va lento, ma continua a crescere in maniera costante. Questa è una cosa che ci interessa quando andiamo a guardare un'azienda. Vediamo un'azienda che crea sempre più fatturato e per cui che, anche se cresce pieno nel tempo, ci rende partecipi di questa crescita essendo i suoi azionisti, se lo siamo ovviamente. Andiamo al balance sheet e vediamo gli asset che in questo caso, rispetto al 2014, si sono praticamente duplicati nell'arco di questi 10 anni e anche questo è un trend lento, ma continuamente crescente. E anche in questo caso, questa è la parte che ci interessa. Andiamo a vedere quelli che sono invece le liabilities, i debiti. E in questo caso possiamo vedere che anche qui abbiamo quasi un doppio, poco più del doppio di quello che c'era nel 2014, e liabilities e asset sono quasi equiparati. Quindi qui abbiamo questa piccola nottina di paura che dobbiamo vedere, ma ovviamente si tratta di un mortgage REIT e il continuo finanziamento è una parte di quelle liabilities, di quei debiti che non vanno guardati. Per quanto riguarda i mortgage REIT, così come faremo per Arbor, possiamo vedere che non guarderemo il cash perché le metriche per queste particolari aziende, i mortgage REIT, sono completamente diverse da tutte le aziende che si guardano di solito. Seguiamo con la prossima azienda che è Nextar Media Group, col ticker NXST. Questa è un'azienda leader di trasmissione dei Stati Uniti d'America che offre un ampio portafoglio di stazioni televisive locali e risorse di media digitali con una presenza in oltre 100 mercati in tutto il paese. Nextar offre programmi di notizie sportive e intrattenimento a livello locale a milioni di famiglie americane. Questa ampia portata e il portafoglio diversificato di contenuti rendono appunto questa azienda una forza dominante nel settore radio televisivo locale e la società offre attualmente un rendimento da dividendo del 3,69%, ovviamente come sempre alla data di registrazione di questo video, che è piuttosto interessante per chi cerca un flusso di reddito costante. Inoltre ha anche un notevole tasso di crescita dei dividendi che si attesta al momento al 29,8% anno. Ah, dimenticavo di dirvi che questi sono i dati degli ultimi 5 anni di crescita. In termini di performance del prezzo delle azioni, Nextar ha un tasso di crescita media paragonabile al 28,4% anno di CAGR, per cui un 284% negli ultimi 10 anni. Ricordo che questi rendimenti sono all'ordo perché non includiamo il dividendo. Questo indica, secondo me, una forte fiducia nel mercato locale di questa azienda che appunto fornisce sistemi di intrattenimento locale e prospettive di crescita future, fornendo un potenziale sia per prosvalenze, per cui di apprezzamento di capitale, che per il reddito da dividendo. E anche per questa azienda, parlando di numeri, i 10.000 euro in Nextar Media, dopo quanto tempo sarebbero raccopiti i 700 euro mesi di affitto? Come vediamo nel grafico, molto ma molto pochi, 12 anni netti. E forse anche qui una bella bollettina, una pizza al taglio e magari anche una birrozza ce la potremmo pagare. Come sempre, al netto della doppia tassazione. Adesso guardiamo i suoi dati finanziari. Andiamo a guardare per quanto riguarda Nextar l'income statement. Vediamo un gross profit che per quanto riguarda negli ultimi 10 anni è cresciuto veramente tantissimo, quasi 5 volte tanto negli ultimi 10 anni e anche l'operate income, così come il fatturato totale, che è praticamente 8 volte tanto quello che era nel 2014. Quindi un'azienda come possiamo vedere anche dei grafici sulla sinistra che crea tanto fatturato e tanto profitto lordo. Andiamo a vedere quello che è il balance sheet e in particolare andiamo a vedere prima quelli che sono gli asset. Anche qui in questo caso negli ultimi 10 anni possiamo vedere che gli asset sono veramente importanti, sono 10 volte tanto quelli che erano nel 2014, anche se sono, come possiamo vedere dal grafico, leggermente ballerini hanno avuto un picco tra il 2019 e il 2020 e anche il 2021, però c'è questo trend che è un po' decrescente dal 2019 ad adesso, però in linea di massima quello che ci interessa è che l'azienda sia profittevole e oltre a questo andiamo a vedere rispetto agli asset quali siano i debiti per cui le liabilities come possiamo vedere anche in questo caso la parte debitoria avendo avuto un picco fra il 2019 e il 2020, il 2021 però dal 2019 anche in questo caso vediamo che la parte debitoria è sempre decrescente così come quella degli asset posseduti, mentre comunque come abbiamo visto nella prima schermata gross profit e revenue sono in continua crescita. Andiamo a vedere l'ultima parte quella del cash. Un cash flow che ha un trend di crescita è negli ultimi periodi aumentando un po' meno però possiamo vedere che il trend è comunque crescente e comunque rispetto al 2014 per cui dieci anni fa ci troviamo a un cash che è più o meno otto volte tanto quello che era nel 2014 per cui l'azienda ha tanto da poter investire e soprattutto da poterci restituire sotto forma di dividendo. Passiamo all'ultima azienda dell'otto di questo quinquetto Arbor Realty che sicuramente è la più conosciuta di quelle menzionate oggi anche questo è un RIT come notate io amo i RIT uno degli attori di spicco nel settore dei muti RIT specializzati nella concessione e nella gestione di una gamma diversificata di prestiti multifamiliari e immobiliari commerciali con particolare attenzione alle soluzioni finanziarie strutturate. Arbor ha veramente costruito un portafoglio robusto che include prestiti ponte finanziamenti mezzanini e investimenti azionari privilegiati. Essendo così specializzato questo consente alla società di generare un reddito solito rendendolo un affidabile pagatore di dividendi è quello che interessa a noi ovviamente. Arbor Trust è particolarmente attenente per investitori da dividendi grazie a un dividendo che ad oggi è il più elevato del quinquetto un 12,63% anno. Questo rendimento è impressionante e significa che per ogni 100 euro investiti si può aspettare un guadagno di 12,87 euro lordi di dividendi che è significativamente più alto rispetto a molti altri titoli azionali e comunque tutti quelli presentati oggi nel portafoglio. Inoltre Arbor ha davvero un tasso di crescita di dividendi molto importante un 10,59% anno negli ultimi 5 anni indicando che ha costantemente aumentato la distribuzione dei dividendi. Se invece guardiamo i termini di performance dell'apprezzamento del capitale lei è la più bassa dell'otto di questo quinquetto di oggi con un 96% sui 10 anni che sono circa un 96% anno lordo che anche se modesto comunque schifo non fa perché è comunque in linea col mercato di riferimento dell'S&P 500. La combinazione di un elevato rendimento del dividendo e una crescita costante media dell'apprezzamento di capitale e una crescita dei dividendi piuttosto importante secondo me la rende una scelta molto importante e mirata per chi vuole appunto pagare questo benedetto affitto da 700 euro al mese. Quindi parlando di numeri i 10.000 euro in Arbor Real dopo quanto tempo sarebbero 700 euro al mese con Arbor Real ci saremmo circa 10 anni e mezzo come dicevo prima per cui mentito pochettino intorno ai 10 anni e con gli 11 anni ci leveremmo anche in questo caso la birretta la pizzetta e una bolletta ha fatto anche la rima adesso guardiamo i dati finanziari poi facciamo un bel portafoglio con queste aziende per cui facciamo un recap con il nostro file excel e per cui il backtest e poi passiamo al forecast per cui passiamo all'income statement di Arbor Real Income come possiamo vedere tutto quello che è la parte finanziare soprattutto il fatturato abbiamo un fatturato costantemente in crescita lo possiamo vedere anche qui da questo grafico a barre che possiamo vedere qui sulla sinistra quindi azienda che continua a macinare fatturato e continua quindi a incassare sempre più soldini da investire all'interno della propria società per quanto riguarda quello che è invece il balance sheet di Arbor possiamo vedere che quello che sono i total asset hanno un trend crescente a parte una piccola battuta d'arresto come possiamo vedere fra il 2022 e il 2023 ma il 2022 è stato particolarmente proficuo rispetto a quello che è il trend di crescita e per cui non lo andrei neanche a valutare come una battuta d'arresto questi asset sono con un trend crescente e anzi particolarmente è importante perché se si guarda il 2014 rispetto al 2024 che si sta affinendo praticamente abbiamo quasi un 11-12 volte di total asset rispetto al 2014 stessa cosa anche per quanto riguarda la parte delle liabilities dei debiti però in questo caso la forchetta che c'è fra liabilities e quella che è degli asset possiamo vedere che dà un discreto margin di sicurezza fra le due cose e quindi l'azienda la vedo particolarmente in salute essendo Arbor un mortgage non andiamo a vedere la parte di cash flow perché in questo caso invece si applicano delle metiche diverse così come abbiamo fatto per Agricultural Mortgage bene passiamo al recap con il nostro file Excel e dopo questo vediamo il forecast come vediamo nella grafica abbiamo come yield quello più importante ovviamente l'abbiamo detto anche nel video essere Arbor Realty con 12-63% mentre quello più basso essere Federal Agricultural Mortgage con 2-60% per quanto riguarda invece il dividend growth negli ultimi 5 anni il backtest ci dice che quella che ha fatto crescere il dividendo maggiormente è stata Nextar Media Group con un 29-80% anno negli ultimi 5 anni mentre quello che l'ha fatto crescere di meno è proprio Arbor Realty che però ovviamente ci dà un 12-6% di dividendo dandoci un dividend growth negli ultimi 5 anni di un 10-59% per quanto riguarda il capital gain negli ultimi 10 anni lo abbiamo detto durante il video AGM si dava un 650% di capital gain in 10 anni mentre quello più basso è sempre Arbor Realty con un 97% una cosa che non vi ho fatto vedere ma ve lo dico adesso lo yield on cost tutte le aziende hanno un yield on cost molto ampio alla fine di questi 10 anni 12 anni 15 anni 20 anni in base a quello che è l'investimento con quello più alto essere appunto Federal Agricultural Mortgage Reit che ha un 81-18% mentre Nextar ha un 65-95% di yield on cost con i dati in basso adesso un 5% di yield medio una crescita di circa 17-39% media un capital gain del 28% medio anno andiamo a creare quello che è il nostro forecast per cui inseriamo i dati nel nostro portale 10.000 euro in questo caso diviso su 5 aziende dividend tax rate del 37% abbiamo il 15% all'origine americana più il nostro 26% dividendo attuale medio delle 5 aziende un 5,03% per quanto riguarda l'aumento di dividendo non ho usato il dato che ci è venuto ma sono stato un po' più conservativo ho fatto un 15% di aumento anno e anche per quanto riguarda il ritorno ho fatto una stima più conservativa mettendo un 20% e quanto è il tempo in questo caso 18 anni dopo 18 anni cosa andremo ad avere andremo ad avere uno yield on cost del 74-78% un patrimonio finale di 372.000 euro con un total return del 3625% e un average annual return per cui i dividendi più il capital gain del 22-26% e ci incasseremo questi benedetti 8.700 euro l'annui ci pagheremo tutto il nostro affitto avendo investito in queste 5 aziende per soli 18 anni e come vediamo come sempre nella nostra progressione del grafico il reale sbalzo arriva dopo circa 10-11 anni dall'investimento dove lo yield on cost il total income e il portafoglio balance cominciano a fare il loro balzo verso l'alto spero come sempre di avervi offerto un'attività ludica per andare a valutare altre aziende magari un po' meno conosciute e crearvi un vostro portafoglio da dividendo che vi possa permettere di pagarvi il vostro affitto al vostro mutuo di circa 700 euro al mese e se così fosse se vi ho aiutato un po' vi ricordo che è una marea di link affiliati che danno fastidio a qualcuno ma che mi aiutano a crescere ricordatevi che come sempre vi voglio bene e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.